buongiorno sono anna giulia hedges e oggi ti illustro il contenuto della lezione che tratterà l'argomento super bonus 110 riguardo ai condomini un webinar fondamentale per qualunque professionista si occupa di questo tipo di lavori perché i nostri docenti andranno a vedere gli argomenti specifici quale le spese relative alle coperture quindi un lavoro trainante la relativa tabella millesimale i tetti di spesa e la loro ripartizione il tutto verrà ovviamente esaminato dai nostri due esperti con dei casi pratici quindi vi aspettiamo alla lezione vi ringraziamo di essere con noi e a a presto